È un grande momento di festa perché la cultura ritorna ad essere bene comune, bene condiviso, quindi non resta che invitare tutti i visitatori ricordando che per tutto il mese di febbraio l'ingresso qui al museo sarà gratuito, ovviamente secondo i protocolli di sicurezza e ovviamente secondo numeri contingentati. È un piccolo sacrificio rispetto alle condizioni ordinarie di visita al museo, però ritornare ad ammirare i bronzi di Riace, ritornare ad ammirare i bronzi di Porticello, ritornare ad ammirare i grandi tesori della Calabria Antica, ecco questo è il segnale oggi di riapertura del museo.